Da Venezia, il tiro nei secondi iniziali dell'azione, molto efficace, di nuovo più tre, Iesi, risponde, un canestro quasi in fotocopia, Guido Meini, il movimento dei compagni, Maestrello, palla per Di Giulio Maria, di nuovo fuori per Meini, da tre punti a canestro Meini, due triple, pesanti. 14 secondi per andare al tiro, Meini, palla che gira per linee esterne, rischia l'infrazione di passi di Giulio Maria, Meini, la tre punti, Meini, assegno, terza tripla di Meini, il sorriso.